prestazione sopra le righe per l'amadori cesena che nel derby contro l'orvalugo non dà scampo ai propri rivali seppelliti sotto una valanga di canestri per l'81 a 51 conclusivo troppo evidente la differenza di qualità tra le due formazioni con la squadra di di lorenzo che porta in doppia cifra ben quattro giocatori i vari trapani daniello sacchettini e berkic mettendo le cose in chiaro già nel corso di un primo tempo dominato sul più 12 un successo che permette ai tigers di prendersi il primo posto in solitaria complice anche lo scivolone casalingo di faenza contro orzi nuovi sì è una piccola soddisfazione dispiace per faenza perché comunque sono cugini però noi continuiamo nella nostra crescita nella nostra corsa sicuramente noi avevamo una partita un po più agevole di quella difenza adesso adesso vengono una serie di partite importantissime tante fuori casa e quindi adesso si vede veramente un po di che passa siamo fatti abbiamo giocato su ritmi molto alti tante palle recuperate potevamo chiudere la partita un po prima abbiamo modo di vedere soprattutto nel primo e nel secondo quarto abbiamo sbagliato almeno 6 7 tiri da sotto abbastanza liberi abbiamo sbagliato una marea di tiri liberi sono sbagliato 11 12 tiri liberi però poi tutto sommato sono partite sempre un po strane queste qui dove alle volte le cose ti riescono anche un po troppo facilmente non si è abituato ad affrontarle grazie a tutti Grazie a tutti